Diamo il benvenuto ad un entusiasmante episodio inedito della celebre serie tv, Terra Amara. Preparatevi a navigare in un mare di emozioni, con sorprese e rivoluzioni che ridefiniranno il futuro dei vostri personaggi preferiti. Nell'episodio di oggi, vi trascineremo in una narrazione avvincente dove il dramma raggiunge il culmine e le relazioni sono messe a dura prova. Ma prima di tutto, vi esortiamo a iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su queste entusiasmanti anticipazioni. Siete pronti a tuffarvi in questo vorticoso tessuto di emozioni? Allora non perdete altro tempo, perché Terra Amara è pronta a svelare i suoi misteri più oscuri. Un'inaspettata rivelazione attende gli spettatori nelle prossime puntate mozzafiato di Terra Amara, in onda su canale 5, coinvolgendo due figure molto conosciute al pubblico italiano. Stiamo parlando di Sevda, l'amante di Adnan Yaman, e Umit, il direttore del ospedale che in passato ha avuto una breve relazione, con Demir Yaman. La trama si fa ancora più intensa quando Sevda scopre una verità sconvolgente. Umit è sua figlia, una realtà celata per molti anni. Sevda, la cui esistenza è stata un implicato tessuto di segreti e misteri, si trova ora di fronte a una rivelazione epocale che scuoterà le sue certezze, alterando radicalmente il futuro. La narrazione intorno a Sevda e Umit si fa più complessa, mentre uniti, affrontano il tormento e la perplessità scaturiti da questo straordinario colpo di scena, nel tentativo di riallacciare i fili di un legame familiare da tempo perduto. Gli spettatori saranno catapultati in un vortice di emozioni, intrighi e rapporti intricati. Non perdete le vibranti puntate di Terra Amara, che vi promettono di rimanere attaccati allo schermo mentre il racconto di Sevda e Umit si snoda, continuando a meravigliarci con nuovi emozionanti sviluppi. Terra Amara è una serie televisiva che continua a incantare e a conquistare il cuore degli spettatori italiani con la sua trama vincente. La trama attuale di Terra Amara si complica ulteriormente con Sevda che raggiunge il punto di rottura con il comportamento di Umit. Nonostante le continue richieste di Sevda di evitare contatti con la famiglia Yaman, in particolare con Demir, Umit persiste in una relazione segreta con lui, trascurando completamente i pericoli che tale decisione implica. La situazione degenera ulteriormente quando Umit ha l'ardire di presentarsi a Demir Yaman come se nulla fosse, mostrando addirittura un atteggiamento di sfida. Questo pone Sevda in stato di massima allerta, rendendo evidente che Umit potrebbe avere delle intenzioni oscure e costituire una potenza minaccia per l'equilibrio della famiglia Yaman. Allarmata dalle minacce incombenti, Sevda decide di mettere in guardia Zuleya. Con un gesto di genuina preoccupazione, consiglia a Zuleya di tenere d'occhio Umit e monitorare scrupolosamente ogni suo movimento. Questo nuovo elemento è destinato a intensificare la tensione nella narrazione, evidenziando le complesse dinamiche e i conflitti che animano il rapporto tra Sevda, Umit e la famiglia Yaman. Gli spettatori possono attendersi nuove rivelazioni e momenti appassionanti man mano che la trama si dipana. La complicazione della trama di Terra Amara prosegue con l'arrivo di Sevda all'ospedale, pronta a confrontarsi direttamente con Umit. La sua pazienza è al limite, esacerbata dalla giovane che sembra perseguitare Demir, mettendo in pericolo la stabilità della famiglia Yaman. Determinata a risolvere la situazione, Sevda sfida Umit, intimandole di allontanarsi dai membri della famiglia. Tuttavia, Umit non è disposta a cedere alle intimidazioni di Sevda, mostrando una determinazione implacabile e rifiutando di essere allontanata dalla vita di Demir. Quando Sevda accusa Umit di voler separare Demir da Zuleya, Umit risponde con fermezza. Conosci bene il modo di distruggere una famiglia, dato che sei solo l'amante di Adnan Yaman. Io e te siamo uguali, solo che tu non te ne sei ancora resa conto, ribattendo Umit e svelando una sorprendente somiglianza tra le due donne. L'aspro confronto mette in risalto la complessità delle relazioni nella serie, portando alla luce questioni morali riguardanti i personaggi chiave. La quirsi della tensione tra Sevda e Umit tiene gli spettatori con il fiato sospeso, poiché questa battaglia di volontà promette di influenzare notevolmente il destino dei protagonisti e l'evoluzione della trama di Terra Amara. La situazione tra Sevda e Umit raggiunge un punto critico quando Sevda, esasperata dall'atteggiamento presuntuoso e arrogante di Umit, non riesce più a contenere la rabbia e le sferra uno schiaffo, manifestando la sua profonda frustrazione. Tuttavia, prima che la tensione possa escalare ulteriormente, l'inaspettata comparsa di Mujgan interrompe il loro scambio verbale. Nonostante l'intervento di Mujgan, Umit appare decisa a rivelare qualcosa di importante a Sevda. Un segreto o una rivelazione che potrebbe svolgere un ruolo significativo nell'evolversi della trama. Nel frattempo, Umit amareggiata per essere stata lasciata da Demir, il quale sembra voler dare un'altra possibilità al suo matrimonio con Zuleya. Questa delusione la spingerà a riprendere la sua alleanza con Fikret e i due, formeranno un'intrigante alleanza per raggiungere i loro obiettivi comuni. Fikret nel frattempo, fingerà di lasciare il paese per avere la libertà di agire contro il fratellastro, senza essere sospettato. La prima mossa dei due complici non si farà attendere promettendo di portare ancora più incertezza e colpi di scena nella storia di Terra Amara. Gli spettatori possono aspettarsi un'intensa escalation di eventi e relazioni complesse mentre la trama si sviluppa ulteriormente tenendoli con il fiato sospeso. Nelle prossime puntate di Terra Amara, Umit continuerà a mettere in atto i suoi piani per conquistare Demir. La dottoressa, infatti, minaccerà il suicidio per attirare l'attenzione dell'uomo. Demir, preoccupato per la sua salute, correrà subito a casa di Umit, dove la troverà sdraiata sul letto. Fikret, però, ha scoperto il piano di Umit e si è nascosto nella sua casa, pronto a scattare delle foto compromettenti da mandare poi all'Altun. Il piano, però, fallirà perché gli scatti finiranno nelle mani di Sevda. Sevda, non appena vedrà le foto, deciderà di affrontare Umit. La donna rimprovererà la ragazza per il suo comportamento, accusandola di voler rovinare il matrimonio tra Demir e Zuleya. Umit, però, non si lascerà intimidire e risponderà che sta facendo tutto questo perché è proprio come lei. Una rivelazione inaspettata. La risposta di Umit lascerà Sevda senza parole. La donna, infatti, non comprenderà il senso delle parole della ragazza fino a quando Umit non le mostrerà una foto che ritrae una Sevda molto più giovane e con in braccio una bambina. Quella bambina è Umit, e questo sta a significare che Sevda è sua madre. Una svolta inaspettata. Questa rivelazione sarà una svolta inaspettata per la trama di Terra Amara. Umit e Sevda saranno costrette a fare i conti con il loro passato e con il legame che le unisce. Sarà interessante vedere come questo evento influenzerà le loro vite e le loro relazioni con Demir e Zuleya. Umit rivela a Sevda di essere sua figlia. Sevda, inizialmente incredula, scopre ben presto che Umit ha ragione. La ragazza le mostra una foto che la ritrae da piccola, in braccio a Sevda. Sevda è sconvolta dalla notizia. Umit la incolpa per il dolore che le ha causato, ma Sevda non riesce a rispondere. Lo shock è troppo forte per lei, e perde i sensi. È proprio Umit a prestare i primi soccorsi a Sevda. Quando si riprende, Sevda cerca di spiegare a Umit cosa è successo. La donna racconta alla figlia di non aver mai pensato di abbandonarla e che è stata rapita dalla nonna e dal padre quando era neonata. Umit è furiosa con Sevda, non crede alla sua versione dei fatti e la accusa di averla abbandonata. Sevda, disperata, decide di mettere a punto un piano per dimostrare la sua innocenza. La donna chiama la zia paterna di Umit, che conferma le sue parole. Scioccata da questa rivelazione, Umit perdona Sevda e le si stringe in un abbraccio. La rivelazione della verità potrebbe avere conseguenze impreviste. La notizia che Sevda è la madre di Umit potrebbe avere un impatto sulla vita di altre persone, come Demir e Zuleya. Sarà interessante vedere come si evolverà la storia di Sevda e Umit. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like e condividilo con amiche e amici appassionati di terra amara. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, e attiva la campanella, per non perderti nessun nuovo contenuto sulle anticipazioni di questa fantastica sop turca. Alla prossima!